Sarà votato oggi in Consiglio Comunale il nuovo canone unico dei tributi, il regolamento comunale che ha la finalità di istituire e disciplinare il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa dei tributi minori, ovvero la tassa di occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche, ovvero la TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ed introduce un nuovo canone mercatale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche destinate al mercato. Non ci saranno aumenti, questo ha assicurato l'assessore alle finanze Luciana Camizzi. Il Consiglio Comunale è convocato alle 18.30 per la votazione.